Dal 17 al 19 settembre 2021, Todi ospiterà la prima edizione dell'Umbria Cinema Film Fest. Il festival è realizzato da Umbria Film Commission, la nuova fondazione istituita nel marzo 2021 e presieduta da regista Paolo Genovese. Moltissimi gli ospiti coinvolti in questa prima edizione del festival, cui programma animerà alcuni dei luoghi più importanti e suggestivi della cittadina umbra. Il cinema sarà il grande protagonista con una selezione di film italiani usciti tra il 2020 e il 2021, a cui la giuria segnerà 5 premi. Un premio speciale sarà il premio di Gigi Proietti alla carriera, che ogni anno verrà assegnato a uno dei migliori attori del cinema italiano.